Il Teramo giocherà le prossime 5 gare a porte chiuse. Questa è la conseguenza del decreto firmato nella serata di ieri dal Premier Giuseppe Conte. Sono sospesi infatti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolte in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito nei comuni diversi dalla cosiddetta zona rossa lo svolgimento di eventi e competizioni delle sedute di allenamento degli atleti all'interno di impianti sportivi che però saranno a porte chiuse, all'aperto ma senza la presenza di pubblico. Dunque chi potrà entrare all'interno degli impianti? Oltre agli arbitri, ai calciatori e agli altri componenti, lo staff tecnico, medico e dirigenziale delle due squadre, ci saranno gli operatori dell'informazione, preventivamente autorizzati e comunque nel numero massimo di 75. Poi il personale tecnico con funzioni strettamente connesse all'organizzazione della gara nel numero massimo di 50. I raccatapalle, i manutentori del campo, i presidi tecnici, video e audio, gli operatori di pulizia delle aree interessate, i tecnici dei broadcasters, inoltre gli incaricati della Procura Federale, i delegati Lega, i medici antidoping, gli osservatori arbitrali e l'organo tecnico della Can-C, gli addetti della pubblica sicurezza, gli steward previsti nelle aree interessate, i vigili del fuoco e gli operatori di pronto soccorso, secondo le indicazioni approvate dal GOS. Resta inteso che non ci saranno né interviste né conferenze stampa post-gara e qualunque cerimonia prepartita sarà da effettuare senza la presenza di bambini e o accompagnatori. Dunque, già a partire dalle sfide di domenica pomeriggio, la Lega Pro riduce e si adegua alle disposizioni governative. Non si ferma ma limita fortemente l'accesso al campo di gioco, solamente a coloro che lavorano sull'evento stesso. Cinque gare per il Teramo, partendo dalla sfida coi pugliesi di domenica fino alla trasferta alle Liberati di Terni del prossimo 29 marzo, visto che il decreto ha efficacia fino al 3 aprile. Tra questi due match anche la doppia trasferta, Caserta e Bisceglie, e la sfida a Casalinga contro il Picerno nel turno infrasettimanale del 25. Sarà un cammino senza pubblico per il Diavolo, che dovrà giocarsi uno scontro diretto in piena regola senza il sostegno dei propri tifosi, poi si capirà se l'emergenza sarà già alle spalle, oppure se sarà un finale di torneo atipico, quello che porterà alla chiusura nell'ultimo weekend di aprile.